Un ben ritrovato ai nostri telespettatori, nuovo appuntamento di Sanità senza frontiere, l'appuntamento fisso ormai con il professor Giulio Tarro che saluto, ringrazio ancora per essere qui nei nostri studi. È una trasmissione che si occupa di Sanità a 360 gradi, sfiorando anche quella che è la tematica legata all'etica professionale, all'etica comunque applicata al campo della medicina. Un ragionamento molto sottile che talvolta traspare da quello che ci siamo detti. Professore, infatti oggi io volevo approfittare della sua presenza per riaprire, per aprire un dibattito anche qui su un caso recentissimo di questi giorni di una ragazza americana che ha chiesto che le fosse staccata la spina, malata di tumore, le fosse stata staccata la spina prima di cominciare a soffrire. Ecco, questo apre un dibattito forte rispetto a quello che ognuno di noi ha libertà individuali, dove arriva la libertà dell'individuo, dove invece la necessità di dover assistere e curare a tutti i costi fino alla fine. Lei che idea si è fatto rispetto a questo argomento proprio di questi giorni? Penso che questo rappresenti un punto cruciale della medicina e ovviamente della bioetica. Noi nei nostri studi sappiamo che la nostra missione è quella della vita, quindi il nostro obiettivo. l'uomo nella sua interezza, quindi ovviamente non come mezzo, ma come fine. Allora, metterci di fronte alla possibilità di staccare la spina diventa un fatto quasi controcorrente. Noi abbiamo, diciamo, una unità di raziocinio e di coscienza e da questo binomio, per così dire, abbiamo l'essere umano con tutte le sue qualità, con tutto il suo binomio di struttura e funzione. E allora mi viene difficile pensare alla possibilità che noi come medici possiamo staccare la spina, in quanto per esempio… È un controsenso, sarebbe un controsenso. Sì, è come si dice, è una contraddizione intermissima e io per esempio ovviamente sono contro la pena di morte. E quindi uno che mi dà la vita, per fare un esempio, non posso dimenticare, quando in laboratorio ero forse addirittura ancora studente e si facevano degli esperimenti sul virus dell'influenzale e allora un animale dice che tra il furetto ha la possibilità di poter, per così dire, inoculare il virus e c'è stato un arresto cardiaco e in un po' di odia, mi sono stato due ore per fare il massaggio cardiaco e alla fine abbiamo avuto la soddisfazione che l'animale, per così dire, è resuscitato. Allora, quando c'è questo rapporto, per così dire, con l'animale e quindi ovviamente con l'uomo mi sembra molto difficile per così dire accettare un fatto del genere. Se noi lo trasferiamo per esempio sulla possibilità di fare un trapianto, sappiamo che il donatore, perché sia tale, soprattutto quando sono organi ovviamente vitali, deve essere sicuramente esserci l'arresto, non del cuore che può battere per fatti suoi, ma quello che è importante è la lesione irreversibile del tronco encefalico. Quindi diciamo, noi dobbiamo essere ben, come dire, ben specifici, precisi su questo aspetto. Allora, quello è il punto che uno può essere donatore. Certo. A questo punto, allora, noi come facciamo ad ammettere di staccare la spina? E poi diventa tutto un gioco, soprattutto se ce lo chiede una persona, diciamo, cosciente. Noi, diciamo, ovviamente siamo cristiani, addirittura chiaramente noi in particolare cattolici, apostolici di Romana Chiesa, come possiamo mai pensare di poter essere, per così dire, a favore dell'aborto, di poter essere, diciamo, a favore del distacco della spina, ma è una questione, secondo me, diciamo, non perché possiamo pensare al miracolo, per così dire, ma sicuramente noi faremo l'impossibile, perché la persona sia della qualità, della dignità, chiaramente, della sua vita. Quindi, se si stacca la spina, non c'è ancora, per cui non c'è un motivo, perché dire, nemmeno legato al dolore, che oggi, tutto sommato, si riesce a sollevare, a togliere di mezzo, con tutta una serie di farmaci. Professore, ecco, io però mi metterei un attimo nei panni di questa ragazza, ma anche di tanti altri che probabilmente la pensano come lei. C'è un problema, probabilmente, di morale o di senso della vita, perché una persona che chiede di non soffrire e di essere aiutata a non soffrire, probabilmente, ha alla base delle motivazioni che sono diverse, un suo modo di vivere, una sua linea di pensiero che la porta a disaccarsi un po' da quello che, immagino, pensa lei, che penso io, pensano anche altri medici, per esempio. Ma io, io prendo lo spunto, dal fatto che io ho la specializzazione, mi mantiene lo sermentale, perché dico questo, non è per dire… No, è proprio addetto ai lavori, diremmo. E allora, se io penso che esiste una grossa malattia, come per cui dire i ciclotimici, la depressione, se noi pensiamo, tutto sommato, i pazienti che a volte non sono nemmeno tali, perché poi, diciamo, è l'estremità di un fatto caratteriale del depresso, il depresso alla fine, diciamo, vuole sempre morire a questo punto. Noi che facciamo allora, diamo il nulla osta al suicidio? Cioè, bisogna chiaramente avere, come piace sempre ripeto, i piedi per terra, quello che serve al nostro buonsenso nei riguardi di vedere il bicchiere non solo mezzo voto, ma anche è mezzo pieno. Quindi un sostegno psicologico che aiuti a fare delle scelte che vanno in una certa direzione. Sicuramente quello che le dici ci passa a che cosa? Ci passa ai famosi, diciamo, hospice, a quelli che sono le corsie per i pazienti terminali. Dunque, credo che quello sia un problema estremamente importante, estremamente, diciamo, immanente a quanto noi stiamo oggi discutendo, che riguarda l'importanza che il paziente non si sente abbandonato, sicuramente viene sottolineato la dignità della vita nei riguardi del dolore, infatti soprattutto in questi centri si fa di tutto perché il paziente non soffre, però alla fine non si fa nemmeno l'accadimento terapeutico, che quello, ricordo, l'abbiamo già detto altre volte, da cui è partita il termine di bioetica nel 1970 dall'oncologo che si occupava di pazienti sotto chemioterapia e quindi in un certo senso contro l'accadimento terapeutico c'è però sempre la continua assistenza fino ad accompagnare, per così dire, in maniera, si può dire molto cristiana il paziente, per il passaggio all'altro mondo. Quindi lei vede sicuramente di buon grado anche la presenza degli hospice, cioè di questi luoghi dove il malato terminale può essere però accolto. non vengono visti come un ghetto dove vengono lasciati morire, ma aiutati anche psicologicamente e con le cure del caso per alleviare le sofferenze poi alla morte, aiutati, accompagnati. Queste strutture dovrebbero essere concepite in questo modo, è sempre così? Io purtroppo mi sono trovato di recente a dover, per così dire, subire un fatto familiare di questo genere e come scelta mia personale avrei preferito la continua assistenza 24 ore su 24 ore a casa. Purtroppo ha prevalso un altro tipo di scelta, appunto quella dell'hospice, che però diciamo concettualmente e di base ha quei fini, per così dire, nobili che abbiamo appena accennato. E quindi c'è un'alternativa alla possibilità che spesso non è facile, di seguire il paziente 24 ore su 24 ore a casa propria. E quindi diciamo l'hospice sicuramente rappresenta un sistema non ipocrita, ma sicuramente sentito perché si difende la dignità della vita nei riguardi della morte che però diciamo non deve essere accadimento della preotica. Per ritornare un po' al discorso di partenza, dove arriva la libertà dell'individuo di decidere sul suo destino, se prima o dopo, a metà del percorso, dove invece l'accanimento, la necessità di curare il paziente da parte delle strutture, da parte dei medici? E credo io, accennando prima a questo binomio fra raziosigno e coscienza, certamente il paziente non può avere, per così dire, la coscienza di poter desiderare la morte in ogni caso, abbiamo fatto prima l'esempio del depresso, però c'è bisogno chiaramente del suo rapporto in questo caso piena fiducia nell'assistenza a questo caso medica, quindi non parliamo di assistenza sanitaria, ma proprio medica nel senso migliore del termine, nel senso del giuramento ipocratico che noi abbiamo fatto quando ci siamo laureati, in cui il medico deve essere garante di fare il miglior trattamento che molte volte, certi dolori diciamo in mani, eppure oggi noi sappiamo che possiamo intervenire, soprattutto con le caratteristiche, con la terapia del dolore, che riescono a fare miracoli in questo senso, noi dobbiamo essere in grado di poter venire incontro al paziente, di superare questo momento di crisi e che noi possiamo per risolverlo a un livello meglio. Io direi di dare la linea alla regia perché abbiamo voluto sentire anche un teologo su questo aspetto, padre Majorano che ci ha rilasciato la sua idea, l'idea un po' della Chiesa, sentiamo. Siamo in compagnia di padre Sabatino Majorano, docente di teologia morale dell'Accademia Alfonsiana Roma, il tema di oggi è eutanasia, padre la società ha tanto lottato per allungare l'aspettativa di vita della popolazione, oggi però ci sono persone che scelgono e chiedono di poter morire accorciando questa vita, lei cosa pensa? Credo che il desiderio di prolungare la vita è così radicato nell'uomo che negarlo signifierebbe negare la stessa umanità, per cui tutto quello che si fa perché l'uomo possa vivere più a lungo e possa vivere meglio è qualcosa che risponde al progetto di Dio. La tendenza invece a dire sono io a decidere quando finisce la mia vita, questo è qualcosa che pone grossi interrogativi perché ci fa perdere quel rispetto per la vita che è fondamentale per vivere. Lei, se l'eutanasia trovasse piena legalizzazione in Europa, cosa cambierebbe nel mondo? Ma io credo che sarebbe, creerebbe grossi problemi a livello di affermazione del senso dei diritti, del senso del rispetto dell'altro, perché quando noi facciamo perdere quel senso fondamentale di rispetto, allora anche le altre realtà in cui bisognerebbe avere rispetto rischiano di essere contagiati da questa caduta del senso di rispetto di fondo alla vita. Lei cosa pensa? Ci dovrebbe essere un'accettazione, una sopportazione del dolore? Bisogna fare in modo che il dolore possa essere vissuto con dignità umana e per questo ci vuole molta solidarietà e ci vogliono tutti i mezzi che permettono di vivere il dolore con dignità. Dobbiamo sentirci tutti interpellati da una persona che soffre, non lasciarla col suo dolore. A questo punto quel dolore diventa fonte di valori perché stimola la solidarietà, stimola la ricerca, stimola non arrendersi di fronte alla sfida che sente una qualsiasi sofferenza. Per concludere, padre, che messaggio vuole lanciare a chi vive queste situazioni, soprattutto ai familiari che sono vicini a casi di malati terminali o chi chiede di morire? Io credo che non posso lanciare un messaggio perché sono una persona che, come tanti altri, quindi il mio è semplicemente un dire che occorre restare solidari con chi soffre, perché molte volte il desiderio di morte è proiettato dall'insensibilità che noi abbiamo verso queste persone. Perché quale volte accade che vedendo che noi non riusciamo a dare significato alla loro sofferenza, allora decidono a caso mai di non appesantirci ulteriormente. Per cui quando più amore e più solidarietà riusciamo a mettere accanto a queste persone, più la sofferenza può essere vissuta. Naturalmente questo deve essere accompagnato dalla consapevolezza che noi non possiamo decidere all'infinito di continuare a vivere, per cui anche il processo di morte va accettato quando è iniziato e va accompagnato perché possa essere vissuto con dignità. Sullo sfondo c'è sempre quella fede profonda che come credenti abbiamo, che la morte non è la fine, ma la morte è il passaggio a quella che è la condizione di vita piena con Cristo in Dio. Io ringrazio per questo intervento Padre Majorano. Grazie a lei e agli ascoltatori. Ecco professore, allora la domanda che ci sorge spontanea. Fino a che punto la medicina, il medico può spingersi? Qual è il limite rispetto a tutto questo? Di fronte per esempio se lei si fosse trovato di fronte ad una paziente come questa ragazza americana, lei come avrebbe reagito? Quale comportamento avrebbe adottato? Ma io vorrei un po' andare indietro nel tempo. Andiamo a una polistica per cambiare. Infatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù da conoscenza. Chiaramente è ripreso da tante, quindi superiamo un millennio in un colpo. E questa possibilità nostra, che io sottolineo sempre, che noi siamo quello che conosciamo. Non so se ho raccontato l'episodio di come è venuta fuori questa dizione, questa frase, questo aforisma, in particolare visitando la casa di un nostro grandissimo Leonardo da Vinci. Quindi a Vinci, la si può scrivere qualcosa diciamo, all'inizio o alla fine della visita. E quindi io ero insieme a Carlton de Duseck, premio Nobel del 1977 se non sbaglio, insieme a Blomberg per l'antigenia australe e lui perché aveva scoperto il Kuru, una malattia particolare della Papuasia in cui c'è un rito speciale nei riguardi dei morti in cui, scusate, qual è il meccanismo in cui viene questa infezione da particelle più piccole dei virus, quindi sono un tipo delle proteine per così dire replicantesi e che viene una malattia del sistema nervoso irreversibile che è uguale a quella che è un evento stocastico, un caso di un milione che può essere a Napoli o a Bolasales o a Mosca e che si chiama Kuru. E quindi viene perché appunto viene, per così dire, passato proprio il sistema nervoso direttamente dal morto, dal defunto, in genere più che altro ai componenti femminili, per così dire, della famiglia e quindi c'è l'osservazione di questa malattia nel tempo che purtroppo è una malattia, diciamo, irreversibile, che poi lo stesso che può succedere è una specie di scresa della lamiotrofia per cui viene implicato pure il sistema nervoso e quindi in un certo senso ci troviamo di fronte a situazioni, per come dire, così allarmanti. Allora, questo però per descrivere, diciamo, il premio nobile con cui io visitavo la casa di Vinci e quindi io ho scritto in inglese You are what you know, che sarebbe tu sei quello che sai. Per il momento spontaneo ho fatto l'atmosfera della casa di Leonardo da Vinci e quindi il professore che mi seguiva non ha fatto altro che controfermare quello che aveva scritto. Allora, partendo da questi aspetti, diciamo, di conoscenza e quindi partendo dagli aspetti che per noi, diciamo, la vita è un concetto intuitivo, diciamo, noi sappiamo che nasce da questo binomio struttura-funzione, che ci sono tutta una serie, per così dire, di elementi che la caratterizzano dal metabolismo, al crescimento, all'eccitabilità, alla riproduzione, all'organizzazione, per cui abbiamo detto prima di queste proteine replicantesi, poi il passaggio veramente fra vita animata e non animata sono i virus dalla classica definizione dell'Uria, un altro nobile, Salvador Luria, fra l'altro ha formatosi prima in Italia e poi, ovviamente, ha preso il nobile per le sue ricerche negli Stati Uniti. Qui ho avuto il piacere di consegnare pure il microscopio d'oro a Roma, che è stato già dato allo professore Albert Sabin, il mio maestro americano, a Bovea, altro grande Nobel italiano, anche se i suoi studi sono stati per lo più nella vicina Svizzera. C'è stata tutta questa serie di situazioni per cui quando uno cerca di raggiungere i confini, il limite della vita, i virus che sono solamente viventi quando vengono replicati dalle nostre cellule e quindi come tale diventano particelle animate, sono capaci ovviamente di infettare altre cellule e questo diciamo, secondo la classica definizione di Luria, oggi sappiamo che c'è una distinzione fra molecola DNA e molecola RNA, la molecola della vita, la molecola che porta l'informazione della molecola della vita, c'è tutto un discorso chiaramente di biologia molecolare. Quando ci troviamo di fronte a questo infinitesamente piccolo che però ci fa vedere la grandezza del creato in questo suo ordine e quindi per quelli che sono cattolci o cattolci romani riescono a superare la concezione dell'evoluzione dell'uomo con la possibilità anche di questo creazionismo, ebbene in particolare è difficile che noi siamo tali da poter sentirci diciamo sull'Olimpo per decidere la vita di un'altra persona. Certo, questo è insomma, arriviamo a questo. Io a quel punto però le chiedo di nuovo, lei cosa direbbe a un paziente in una situazione simile a quella che abbiamo descritto? Cioè se le venisse chiesto, professore io però vorrei staccare la spina prima che cominci un percorso di sofferenza. Anche perché molte persone potrebbero in questo momento trovarsi in questa situazione spesso in uno stato di disperazione rispetto a situazioni che pur ci sono. Io mi permetto di riportare un altro fatto personale, perché penso che sia importante dopo una vita vissuta, di poter fare dei paragoni che ci possono permettere almeno a pensare che cosa può essere un tipo di risposta. Ci troviamo praticamente nella seconda metà degli anni Ottanta. Perché dico questo? Perché da pochi anni era venuta quella famosa epidemia mondiale che si chiama AIDS, la singola immunodeficienza acquisita legata ad un virus che allora purtroppo era ineluttabilmente mortale. Oggi fortunatamente dal 90 settembre c'è un cocktail di farmaci in cui permette non solo di inattivare il virus, ma di poter convivere non più con la malattia, ma col virus per quanto presente nel nostro organismo, ma sicuramente la vita che si conduce è normale nel lavoro, negli affetti e tutto il resto. Bene, ripeto, ci troviamo in pieno panico, molto peggio direi anche come numeri, perché oggi viviamo con l'ebola. In particolare, noi sappiamo benissimo che se c'è una trasmissione, allora veniva in particolare, era sempre il sangue, però in particolare col sangue si può fare anche il tossico dipendente. Si usava una seringa, chiaramente, che è già usata, che c'era il virus, oppure allora pure c'erano delle trasfusioni di gente, chiaramente, con cui non c'era la possibilità di misurare il virus e quindi ci potrebbe essere questa contaminazione. Poi sappiamo, come oggi, la maniera più facilmente possibile di trasmissione del virus è una malattia, sicuramente, trasmissibile. Quindi c'è tutta questa serie di situazioni che vengono considerate. Ebbene, io mi trovo nelle mie funzioni, il primario virologo, tanto per chi non lo sapesse, nell'ospedale di malattie infettive, che è il Codugno di Napoli, e mi trovo, diciamo, a tu per tu, con un cappellano, e che purtroppo, diciamo, ha avuto questa diagnosi. Chiaramente, io, diciamo, nella mia veste, però medico, e lui, diciamo, in questo caso, come paziente, a cui io ho dovuto comunicare, perché la comunicazione è impiettuale, si fa personalmente, questa situazione, ricordiamoci, perché siamo nella metà degli anni Ottanta, in cui purtroppo non c'era una cura, soprattutto quando non era soltanto un fatto di siropositività, ma era già chiaramente, diciamo, perché c'erano già dei sintomi di malattia, quindi eravamo nella fase, chiaramente, legata alla possibilità di andare incontro a una serie di infezioni opportunistiche, che poi sono quelle che portano a morte l'ammalato. Io mi sono dovuto, così dire, mettere nei suoi panni e cercare di dire a lui quanto era importante, diciamo, il concetto, diciamo, della nostra missione, della missione di una vita e di poter, per così dire, essere in grado di accettare serenamente la diagnosi, anche in mancanza di una terapia, diciamo, risolutiva, ma eventualmente di una cura che certamente avrebbe potuto, per così dire, mantenere, diciamo, la dignità della stessa persona. Quindi lei, insomma, si è trovato già al cospetto di queste situazioni. Io, un'ultima cosa per chiudere, professore, volevo chiederle. Invece, nel caso di persone non coscienti, quando ho i familiari o comunque nel contesto della situazione richiede una valutazione sulla possibilità o meno di farlo rimanere in vita, come ci si comporta, dal punto di vista medico, dal punto di vista etico? Io credo che un fatto del genere succede in particolare con i bambini, per esempio. E succede anche, in particolare, con i bambini non necessariamente, diciamo, incoscienti, ma eventualmente ancora coscienti, oppure con i pazienti adulti, incoscienti, che però, diciamo, debbono avere dei danni irreversibili, tali da poter chiedere il distacco della spina, con decisione chiaramente, non loro, ma del familiare. Io ripeto, quando ho detto prima, che secondo me il denominatore comune per questo è legato alla lesione irreversibile al tronco del cefale, che è solo l'unica situazione che io ammetto, diciamo, in distacco della spina. Per il resto sono sempre, per così dire, per combattere sulla vita. Finché c'è vita c'è speranza. In questo caso, nel cristiano, soprattutto, dottrina apostolica romana, sicuramente, perché, diciamo, noi possiamo sperare, ma anche nel milagro. Certo. Grazie, professore. La ringrazio per queste sue riflessioni su una tematica tanto discussa in questi giorni. Grazie, ovviamente, a voi da casa per averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana con Sanità Senza Frontiere. Arrivederci. Grazie a tutti.